Buon pomeriggio a tutti i fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è una giornata difficile per tutti noi interisti perché Skriniar ha ufficialmente rifiutato l'ultima offerta dell'Inter. Sì, lo so, è difficilissimo parlare del rifiuto di Skriniar, però dobbiamo farlo e soprattutto dobbiamo raccontare tutta la verità perché ora tutti si divertono a parlare male di Skriniar, tutti ora si ricordano le dichiarazioni di Skriniar, però nessuno si ricorda delle dichiarazioni di Marotta e ora ne dobbiamo parlare perché sì, è vero. Skriniar in passato ha rilasciato delle dichiarazioni d'amore per l'Inter, molte persone ci hanno creduto, sì, io onestamente non ci ho mai creduto, ve l'ho sempre detto e continuo a ripetervelo, non credete mai alle dichiarazioni d'amore perché sono tutte dichiarazioni retoriche, eppure le dichiarazioni di Skriniar si sono rivelate delle dichiarazioni retoriche perché in questo momento della sua carriera Skriniar sta pensando ai suoi interessi e per me non c'è niente di male perché, parliamoci chiaro, tutti noi pensiamo principalmente ai nostri interessi, non facciamo i ruffiani, diciamoci la verità, però detto questo, certamente lui ha rilasciato delle dichiarazioni stupide, soprattutto ingenue, però noi non ci dobbiamo dimenticare del comportamento della società perché è vero, ora in questo momento Skriniar si sta comportando come un giocatore normale, tra virgolette, però è anche vero, è giusto ricordare che in estate lui è stato trattato come un giocatore normale perché non dimentichiamoci le dichiarazioni di Marotta, 20 giugno 2022 Marotta dichiara pubblicamente su Radio Rai è più facile vendere un difensore di un attaccante perché in quel momento della stagione l'obiettivo numero uno dell'Inter era quello di vendere Skriniar al Paris Saint Germain e portare a casa Bremer, questo era l'obiettivo dichiarato dell'Inter, questo era l'obiettivo. In poche parole Marotta in quell'intervista ha mandato questo messaggio Skriniar lo possiamo vendere, Lautaro insostituibile e Skriniar naturalmente ci è rimasto male perché non dimentichiamocelo Skriniar ha dato tutto per l'Inter, Skriniar in passato ha rinnovato da solo pur di rimanere all'Inter in un momento in cui un suo ex compagno rompeva lo spogliatoio non dimentichiamoci queste cose, Skriniar in questi anni si è comportato alla grande purtroppo, bisogna dirlo, la società non si è comportata correttamente con lui perché non è sempre solo colpa del giocatore non scaricate tutte le responsabilità solo su Skriniar perché Skriniar può aver rilasciato delle dichiarazioni retoriche ma non è l'unico responsabile perché un dirigente importante, un dirigente esperto come Marotta non può dire pubblicamente è più facile vendere un difensore di un attaccante quindi in poche parole non può mettere alla porta uno dei principali patrimoni della società non può commettere un errore così grave perché ha fatto un errore molto grave Marotta perché poi purtroppo per lui, pochi giorni dopo l'accessione di delitto al Bayern Monaco ha cambiato tutto ha cambiato tutti i suoi piani perché la Juventus in una giornata ci ha bruciato e si è portata a casa Bremer tu sei rimasto col pesce in mano non hai venduto Skriniar perché non sapevi come rimpiazzarlo perché purtroppo, ve lo dico, questa società non ha più un progetto serio da due anni io continuo a ripetervelo ogni anno continui a vendere perché pure quest'estate sì, non hai venduto nessun pezzo da 90 ma comunque non hai rinnovato la squadra questo è oggettivo non sapevi come rimpiazzarlo e allora l'Inter cosa ha detto? noi ora ritiriamo il giocatore dal mercato rifiutiamo tutte le offerte del Paris Saint-Germain speriamo che il giocatore possa dimenticarsi delle nostre dichiarazioni stupide possa rinnovare nei prossimi mesi e poi magari lo vendiamo in estate se si presenta un'altra squadra con un'altra grande offerta così ha ragionato l'Inter purtroppo per loro Skriniar si è legato al dito certe dichiarazioni e non si è dimenticato di queste cose di queste dichiarazioni e del comportamento tra parentesi vergognoso dell'Inter che è un giocatore che ha sputato sangue e che ha dato tutto ha detto in poche parole tu per noi non sei un giocatore importante perché nei confronti di Lautaro, Barella e Brozovic i dirigenti dell'Inter si sono comportati correttamente cioè nei confronti di Barella, Lautaro e Brozovic li hai corteggiati li hai elogiati e gli hai presentato delle grandi offerte e li hai fatti rimanere anche a Skriniar hai presentato una bella offerta lui però l'ha rifiutata perché non dimentichiamoci che c'è questo grande interesse del Paris Saint Germain e bisogna considerare tre cose primo il giocatore non si è dimenticato delle dichiarazioni di Marotta e del fatto che la società ha pensato di venderlo numero uno numero due c'è questa offerta del Paris Saint Germain che non può passare in secondo piano perché il Paris Saint Germain è la squadra più ricca d'Europa e ti può dare la possibilità di giocare con i migliori del mondo punto numero due punto numero tre perché dovrebbe rimanere in una società che pensa solo a vendere e non ha un progetto ambizioso perché dovrebbe rimanere? lui ragiona pure così io ho una dirigenza che mi ha trattato malissimo in estate che se fosse stato per loro mi avrebbe venduto per fare spazio a un altro numero uno mi vuole una delle squadre più importanti del mondo e in più c'è in questa società in cui mi ritrovo adesso c'è pure un presidente a cui non interessa vincere a cui interessa solo speculare per provare a vendere a un prezzo più alto in futuro perché dovrei rimanere? perché? quando potrei andare a Parigi e vincere e provare a vincere tutto insieme a Messi, Mbappé, Neymar e compagnia bella? e ragazzi purtroppo certi errori non si possono dimenticare e mentre in passato ho criticato dei giocatori che facevano le bizze che non volevano rinnovare in questo caso io non mi sento di scaricare tutte le colpe solo su Skriniar non me la sento nella maniera più assoluta perché sarebbe sbagliato e soprattutto ingeneroso non sarebbe obiettivo dire che le responsabilità sono solo di Skriniar che Skriniar è uno che predica bene e razzola male perché pure l'Inter non si è comportata bene ed è vero che le bandiere non esistono più o ormai le bandiere sono delle sparute minoranze però è anche vero che uno può essere pure legato ad una squadra ma se viene trattato così è normale che possa anche pensare adesso me ne vado cioè mettetevi voi anche Zanetti secondo voi se Moratti avesse detto Zanetti può anche andare via non è impossibile non è difficile rimpiazzare un giocatore come lui secondo voi sarebbe rimasto 20 anni all'Inter? io dubito fortemente perché ripeto tutti i giocatori pensano ai loro interessi chi più e chi meno lui sta pensando ai suoi interessi e sotto certi punti di vista non ha nemmeno torto quindi io penso che le colpe siano da dividere da distribuire io penso che i principali responsabili siano i nostri proprietari perché è logico l'Inter è da tre anni che continua a fare mercato senza soldi l'obiettivo è rimanere in piedi a livello economico vendere e poi forse spendere dei soldi reinvestire forse con un forse enorme quindi il principale problema rimane Suning perché è logico io continuo a ripeterlo Suning è da tre anni che non è più capace di garantire cioè continua a speculare e l'obiettivo è vendere solo a un prezzo più alto Suning sta solo cercando l'offerta giusta per poi andare via numero uno numero due in questo caso pure la dirigenza ha una grossa fetta di responsabilità perché non ci si comporta così non si rilasciano delle dichiarazioni così pochi giorni prima dall'inizio del calcio mercato e soprattutto poi non puoi ridurti sempre all'ultimo come con Perisic cioè sperare che il giocatore ti dica sì e sia disponibile con te perché i giocatori tendono a pensare ai loro interessi e questo un dirigente esperto come Marotta dovrebbe saperlo punto numero due punto numero tre cioè è vero ci sono state in passato delle dichiarazioni discutibili da parte pure del ragazzo che sì avrebbe fatto meglio a moderare le parole probabilmente le ha dette in un periodo in cui magari ci credeva anche lui magari sai come quando tu sei con una ragazza quando ci stai insieme magari pensi un giorno ci sposiamo un giorno facciamo dei figli poi però magari se poi la vedi il giorno dopo uscire con un altro e la vedi che prova a farti le corna magari cambi idea su di lei è quello che è successo un po' a Skriniar Skriniar quelle dichiarazioni le ha rilasciate poteva evitarle? sicuro però io penso che siano stati più i comportamenti dell'Inter che gli hanno fatto cambiare idea e non diciamoci frottole perché pure l'uomo più buono del mondo si sarebbe arrabbiato dopo le dichiarazioni rilasciate da Marotta a Giugno non facciamo finta di niente non facciamo passare queste cose in secondo piano ora detto ciò c'è un problema perché noi dobbiamo rimpiazzare Skriniar perché ormai è chiaro che è una situazione impossibile da ricucire è vero che non ha ancora quella sua non è una decisione definitiva ma ragazzi diciamolo è come se lo fosse non è che sei bipolare prima rifiuti e poi improvvisamente accetti ormai la decisione l'ha presa ormai è destinato a salutarci in estate bisognerà riflettere su chi su che difensore puntare per l'anno prossimo ed è ora ora però ora però ormai il danno è fatto ragazzi ora ci mettiamo a insultare tutti bisognava arrabbiarsi qualche mese fa e io ero molto arrabbiato qualche mese fa ora è troppo tale ormai il dado è tratto praticamente ora però perché si può fare qualcosa lo dico adesso adesso non voglio che si ripeta più un caso simile c'è Bastoni che ha il contratto in scadenza nel 2024 ora voi cari dirigenti dell'Inter ora che avete fatto la frittata dovete correre da Bastoni correre e rinnovargli il contratto immediatamente perché ricordiamoci già la difesa quest'anno ha avuto dei problemi in più c'è De Vrij che è completamente arrugginito eppure lui va in scadenza a giugno e ha ottime possibilità pure lui di lasciarci a parametro zero c'è Skriniar che in poche parole ti ha detto è stato bello arrivederci l'unico che rimane è Bastoni Bastoni è italiano interista ha un contratto in scadenza nel 2024 è un patrimonio dell'Inter quindi correte a rinnovargli il contratto perché se non gli rinnovate il contratto e perdete pure Bastoni e quindi in poche parole smontate interamente la difesa siete colpevoli a 360 gradi questo ve lo dico quindi correte già avete fatto un danno cercate almeno di metterci una pezza sia nel trovare un sostituto decente sia nel blindare i gioielli che hai già chiaro? speriamo di aver mandato il messaggio giusto amala ragazzi sempre forza Inter per quanto riguarda Skriniar io lo ringrazio per quello che ha dato sul campo e che magari continuerà a dare fino a giugno un messaggio però voglio farlo passare i giocatori vanno e vengono l'Inter e i tifosi rimangono questo è il concetto principale perché la maglia dell'Inter rimane innamoratevi dell'Inter non innamoratevi dei singoli ricordatevelo sempre amala grazie a tutti